In attesa della seconda puntata di Ballando con le stelle arriva già il primo scoop su quattro concorrenti. Due coppie di ballerini a quanto pare si starebbero già frequentando al di fuori delle sale da ballo e avrebbero già attirato l'attenzione dei paparazzi. Si tratta di Cristina e Luca da una parte e Giaro e Lucrezia dall'altra. Il copione è più o meno lo stesso per entrambe le coppie, compreso il finale. È stato il settimanale Oggi a pubblicare gli scatti della passeggiata notturna mano nella mano tra l'influencer moldava Cristina Icke e il suo maestro di ballo che hanno continuato a scambiarsi tenerezze e diffusioni per tutta la durata della cena al ristorante. Il bel modello italo-olandese dalla folta Chioma, Giaro e la Nuenzi nel corpo di ballo Lucrezia Lando sono persino stati pizzicati mentre facevano rientro nello stesso palazzo a notte fonda. Non è la prima volta che a Ballando scoppia la passione, tuttavia mai prima d'ora la scintilla era scattata così presto. Ricordiamo tra i personaggi che si sono innamorati durante il dancing show condotto da Millie Carlucci Massimiliano Rosolino e Natalia Titova che hanno messo su famiglia. Dunque non possiamo far altro che augurare alle due focose coppie di Ballando di seguire i passi del campione di nuoto napoletano e della sua intransigente maestra russa per un futuro ancora lungo insieme.